Rieccoci in studio per parlare questa volta di noi, di Rete 8, della Rete Ammiraglia e di uno dei più importanti contenuti che offriamo ai telespettatori abruzzesi, ormai è divenuto un contenuto fermo nel nostro palinzesto. Nuova stagione per Fidati di me e con me e la ringrazio Federica Peluffo che sta ultimando le prove per questa sera ore 21. Si ricomincia Federica? Si ricomincia, ho fatto solo un salto di studio da sopra a sotto insomma e niente siamo felicissimi di ricominciare una nuova stagione televisiva sempre in vostra compagnia perché vi devo ringraziare personalmente ma a nome di tutto il gruppo di Fidati di me perché insomma ci avete seguito in tantissimi e ci avete fatto arrivare veramente il vostro calore in ogni modo e quindi direttore intanto io volevo ringraziare anche voi perché mi sento veramente a casa anche in questo studio. Allora Federica quali sono le conferme, quali sono invece le novità di questa nuova edizione? Allora le conferme, volevo subito cominciare con nominare lui il mio braccio destro Antonio Di Giosa fatte che continuerà il suo girotondo in quel dell'Abruzzo per trovare scubare le particolarità che c'è la nostra regione. E poi abbiamo sempre gli Angels Look, Loris Danesi, Barbara Rabottini e Lisa Angelone che continueranno a trasformare le nostre signore con nuovi look. Poi abbiamo il Keke Design con la Francesca Diodato in primis che ci dà i suoi consigli, sempre il gossip quello nostrano con la collaborazione del centro insieme a Giampaolo Coppola, il ritorno del maestro Lindo Terrenzio e tante novità perché abbiamo aggiunto delle rubriche che si alterneranno appunto nel corso della stagione e sarà una dedicata ai nostri amici a quattro zampe insomma nell'ambito degli animali e poi un'altra invece dedicata alle strutture ricettive abruzzesi, quindi agli hotel e a tutte le strutture che fanno l'accoglienza turistica. Ci avete abituato Federica a ospiti di profilo regionale ma anche nazionale, ci fai qualche anticipazione magari anche sulle prime puntate? Allora questa sera ho invitato, pensate, la giornalista per eccellenza del gossip italiano Grazia Pitori che scrive per tutte le testate giornalistiche e settimanali più in voga che è andata per conto nostro in quel di Venezia nell'ultima edizione appunto della Biennale dove ha scovato veramente dei grandi professionisti non soltanto nazionali ma anche internazionali. Quindi iniziamo con il botto, mentre ti do l'anticipazione che per la prossima puntata avremo Giorgio Pasotti. Bene, allora da non perdere questa sera alle 21 il debutto della nuova stagione di Fidati di me su Rete 8. Io ti lascio Federica allo studio 1, insomma, alla tua squadra che è già al lavoro per questa prima puntata. In bocca al lupo da parte di tutti noi del telegiornale e anche della rete, alla bellissima squadra di Fidati di me, è ormai consolidata. Grazie.